Massimo Condolo, consigliere dell'associazione torinese Tram Storici, che adesso ci dirà cosa fa l'associazione e che cos'è il Trolley Festival. La nostra associazione recupera, gestisce e mantiene in servizio i Tram Storici di Torino, che non sono i Tram Storici originali della rete di Torino, ma anche vetture di altre città. Abbiamo dei Tram di Trieste, di Bologna, di Roma, di Napoli e anche di Monaco, di Baviera, perché abbiamo anche fondato un gruppo di associazioni euro-bene. Abbiamo circa 600 soci, 18 Tram di parto e collaboriamo con il GTP, gestore della rete di trasporti pubblici torinesi, nell'esercito della linea 7, che è una linea storica in servizio ordinario, esercita con personale GTP e vetture nostre. Abbiamo due manifestazioni importanti l'anno, la TTS Show in giugno e il Trolley Festival, che è quella in cui ci troviamo in dicembre, viene tenuta sempre la prima settimana e presenta tutte le nostre vetture storiche, sia staticamente con le mostre a bordo, come nel caso in cui abbiamo ospitato la paroria della Valle del Metauro, ma anche dinamicamente, infatti oggi 7 di queste vetture più un autobus a Luriani di 51 anni, hanno fatto servizio tutto il giorno con passeggeri a bordo per raccogliere fondi per sostenere l'associazione. Massimo, puoi dire quanta gente frequenta più o meno questa manifestazione? Questa manifestazione noi l'abbiamo iniziata con 6.000 persone nel 2006 e siamo saliti fino a un piccolo di 12.000, il che significa fare girare i tram storici a pieno carico tutto il giorno e avere molti visitati. Secondo te l'FVM, la nostra associazione che conduce la battaglia per la Fanurbino, ci sta bene in questa manifestazione? Ci sta decisamente bene perché gli scopi sono comuni, cioè quelli di conservare delle vestigia del passato del trasporto pubblico italiano e di diffondere la cultura del trasporto pubblico, del trasporto sostenibile e tecnologico. Ok, noi Massimo ti ringraziamo per averci invitato a queste manifestazioni, abbiamo trovato un sacco di gente che può appoggiare la nostra battaglia e sarebbe felice di venire su la Fanurbino. Grazie. Benissimo, io sono molto contento che la Fanurbino abbia potuto avere visibilità, ovviamente vi rinnovo l'invito e continuiamo la nostra battaglia comune, grazie. Ok.